ciao a tutti ragazzi sono davide ho 19 anni quasi 20 e ho finito le scuole superiori in italia lo scorso giugno adesso sono in canada a vancouver sto studiando in un college internazionale e sono in un programma di sei mesi in cui ogni mese affrontiamo un argomento diverso non è così approfondito e lungo come non in un'università però comunque è un'introduzione più dettagliata approfondita rispetto magari a una scuola superiore di quello che potreste avere già studiato prima di entrare in questo college comunque ho studiato tre mesi in una scuola d'inglese qui sempre qui a vancouver e qui ho migliorato il mio livello d'inglese e ho raggiunto il livello necessario per iscrivermi al college e ho anche conosciuto molti amici non posso partecipare live al meeting perché ho un esame a scuola però ringrazio stefania e lo staff per l'invito e mi hanno lasciato qualche domanda a cui posso rispondere riguardo la mia scuola quanto ci ho messo a riconvertirsi online in realtà mi è arrivato una mail dalla scuola la domenica dicendo che il lunedì non ci sarebbe stato lezione e la prima settimana non siamo riusciti ad avere lezioni online quindi il mio professore mandava delle mail con powerpoint e spiegazioni di alcuni materiali e dopo abbiamo iniziato le lezioni online su zoom e tutta la mia tutto il college qui sono come sono organizzate abbiamo sul nostro sito della scuola sul nostro registro personale abbiamo un link in cui ci connettiamo al alla classe del professore in cui siamo assegnati gli orari sono gli stessi il professore condivide lo lo schermo con noi e noi possiamo attivare la nostra videocamera o il nostro microfono e di solito leggiamo alcuni powerpoint o libri di testo e dopo il professore li spiega noi comunque possiamo fare domande quando vogliamo alle volte leggiamo qualche brano e lo discutiamo sempre riguardo agli argomenti che stiamo studiando quella sessione ti hanno dato un pc io ne avevi uno tuo in realtà la mia scuola mi aveva fornito un tablet il primo giorno che sono arrivato appunto per studiare i vari materiali che posso trovare online sul sito della scuola come powerpoint libri di testo perché non abbiamo un libro fisico vero e proprio ma molti materiali erano comunque online prima delle lezioni online appunto e però personalmente io uso il mio personal computer perché mi trovo meglio perché lo schermo è più grande e anche ha più funzionalità che differenza hai notato rispetto alle lezioni in aula e le lezioni sono efficaci come prima sono diverse perché l'esperienza è diversa rispetto ad un'aula vera e propria dove hai i tuoi compagni di classe il tuo quaderno libri fogli dove prendi appunti è un po diverso anche perché non abbiamo una lavagna dove si possono fare esempi o calcoli e sinceramente non penso si abbia lo stesso efficacia la lezione online però è sinceramente utile in questi casi quando non ci si può incontrare o quando per esempio siamo distanti fisicamente è certamente utile però non vedo lo stesso effetto al momento lo vedo ancora magari perché è qualcosa di nuovo non ancora allo stesso livello cosa ne pensi dello studio online ti piace? sì penso sia un po il futuro oggi stiamo un po evolvendo su questa sempre nuove tecnologie e studi materiali caricati online e sicuramente ha dei vantaggi però anche degli degli svantaggi come ho detto prima non è sempre così efficace così immediata la comprensione online e non hai le relazioni o interazioni con altre persone per esempio il mio professore fa fatica a capire se uno studente ha veramente capito perché non può vedere bene le facce che alle volte si capisce dall'espressione che si fa se si è capito o no o comunque sì questo è un po magari un punto negativo alle volte perché non si può spiegare bene non sempre si è abili a disegnare o fare calcoli online o scrivere su un computer o condividere lo schermo o mostrare qualcosa però si può imparare vedo margini di miglioramento su questo quindi può essere migliorato e reso anche più accessibile in futuro secondo me cosa ti manca più della scuola sono i miei compagni di classe perché avevo una buona amicizia con molti di loro e per esempio le relazioni personali che avevo con alcune persone perché per esempio durante la ricreazione o pausa pranzo potevamo stare insieme nella mensa o andare a mangiare qualcosa fuori insieme invece adesso siamo tutti separati non puoi parlare così liberamente come magari facevi prima durante l'intervallo anche ho alcuni compagni di classe che non ho mai visto in persona quindi non non li conosco bene quindi non so non si può stabilire un'amicizia vera come si può magari o conoscere bene una persona come magari lo si fa di persona com'è cambiato il mio rapporto con gli insegnanti in realtà io ho avuto lo stesso insegnante per circa tre o quattro mesi e quindi l'ho visto sia nella nelle lezioni in classe che online e alla fine il mio rapporto non è cambiato più di tanto perché alla fine ci dà la possibilità di parlare e quando abbiamo dei dubbi di interrompere anche la lezione tranquillamente e rispondere alle domande o comunque è sempre disponibile via email possiamo sempre chiamarlo o mandare messaggi e è sempre disponibile per noi quindi ci sta aiutando molto da questo punto di vista quando abbiamo bisogno non ho mai incontrato grossi problemi finora episodi divertenti se è capitato qualcuno per esempio mi arrivava un messaggio da qualche amico e avevo la mia videocamera attiva e il microfono e mi mettevo a ridere durante la classe o per esempio quando qualche mio compagno in classe si è dimenticato di spegnere il microfono e stava ascoltando musica durante la lezione alle volte si sentono dei rumori un po' strani però alla fine non è niente di così particolare e siamo riusciti comunque a fare tutto finora abbastanza regolarmente se qualcuno avesse ancora qualche altra domanda potete scrivermi mi chiamo davide baccarin potete trovarmi anche su instagram e magari volete vedere qualche foto che ho fatto qua a vancouver in canada e in caso qualche ragazza abbia qualche domanda sono qui e quando posso magari posso aiutare ciao a tutti buona serata